Ma che cos'è il Frozen Kiss? Lo sai che non lo so, però conosco qualcuno che sa per vedercelo. Pink! Tocca dolce! Tocca dolce! Aspetta che non dote la parola! Ciao ragazzi, è pronto, sono la Pink! Ciao Pink! Ciao, come state? Bene, e tu? Tutto bene, tutto bene, grazie. Perché mi chiamate? Vogliamo sapere qualcosa di più sul Frozen Kiss. Ah già, il Frozen Kiss! Allora, il Frozen Kiss sarà il 14 di febbraio a Verona nelle piazze. Sapete che data è vero il 14 di febbraio? San Valentino! Eh, infatti San Valentino e ovviamente lo slogan sarà Battiamoci per fare la differenza. Ecco ragazzi, allora siccome bisogna pronotare, non è vero, ma è vero. Allora, siete etroghe, bisex, lille vagabocco, di mani di mani, paolo e chiave, le veline, ebrosessuali, omosessuali... Cosa siete ragazzi? Dilitemi! Ma non importa! Va bene, c'è ragione, non importa. In ogni caso venite il 14 di febbraio, che io vi aspetto... Ok... Io vi aspetto, sicuramente, saranno tutte le piazze con il dono delle vendibilità. E ovviamente, ecco, ricordiamo appunto che l'appuntamento è stato organizzato da Verona Pride e che se volete altre informazioni c'è anche la mail frozenkids.veronapride.it Contenti e amori miei della informazione? Sì, andiamo subito a dirla tutti quanti! Va bene, va bene, sì sì, no, allora vi aspetto! Ti aspetta, mi raccomando! Ragazzi! Ciao! Ciao! Ragazzi ti ho perse! Ragazzi non mi sento! Vabbè, ma dico io, uno dà le informazioni e poi ti puro scappano. Vabbè, ciao! Non importa se siamo ok, le specchio è. Facciamoci per farla differenza.